Benvenuti appassionati di calcio dilettanti, questa è sport live del lunedì, la nostra consueta finestra aperta sul meraviglioso mondo del calcio in Friuli Venezia Giulia, è un weekend, abbiamo appena chiuso un weekend di grande interesse soprattutto da un punto di vista mediatico perché siamo partiti con il mezzogiorno di fuoco, la offerta televisiva che si amplia ancora e va a toccare anche le abitudini di tutti coloro che la domenica all'ora di pranzo sono lì a mangiare la pasta, a mangiare gli spaghetti, a colloquiare con i familiari piuttosto che con gli amici e si vedono il meglio del calcio in Friuli Venezia Giulia, proseguiremo con questa iniziativa ma intanto parliamo di quello che è successo ieri e sabato ovviamente e ne parliamo con i miei ospiti, saluto, sono venuto a trovarci in studio Daniel Candotti il centrocampista del Torviscosa, benvenuto Daniel e benvenuto a Enrico Savian, giornalista collaboratore del Messaggero Veneto, benvenuto Enrico, Enrico tu sei di Pordenone, insomma zona Pravis Domini quindi segui soprattutto la promozione in particolare sì, in particolare il Pordenonese mentre Daniel ieri Torviscosa ha pareggiato per 1-1 contro il Chions, altra Pordenonese per cui avremo una puntata di marca quasi destra, destra tagliamento partiamo subito dal mezzogiorno di fuoco perché Torviscosa-Chions è finita 1-1 è andato in vantaggio il Chions con Verrillo che poi sentiremo, ha pareggiato il Torviscosa voglio chiedere subito a Daniel Candotti come avete approcciato al mezzogiorno di fuoco cioè è la prima volta che tu giochi a mezzogiorno? sì, prima volta non era facile perché comunque devi mangiare all'auto di mattina, massimo 9 poi sì poi eravate che favoriti l'ha fatto di giocare in casa quindi non avevate sì dai, per fortuna sì raccontaci un po' però questa vigilia perché avete giocato senza parecchi giocatori avevate più di qualche problema sì, ci mancavano Sturma e Gropp davanti che sono due grandi giocatori però chi li ha sostituiti ha fatto molto bene molto bene, poi abbiamo modo anche di vedere le immagini Enrico, tu ieri hai visto Fiume Veneto? sabato sabato alle 18, Fiume Bannia-Prata-Falchi che tipo di partita hai visto lì? è una partita non spettacolare, è stata brutta dal punto di vista dello spettacolo tra due squadre che al momento hanno più di qualche difficoltà andiamo a vedere allora i risultati dell'eccellenza così iniziamo ad entrarci proprio nei particolari della ottava giornata la vittoria del Flaibano sulle Charlene Sbuzzane un Charlene sempre più in difficoltà poi Illuminacco non si ferma anche la Gemonese deve inchinarsi alla capolista il crash-rapping sta risalendo la china buona vittoria in chiave salvezza del Rivignano sulla Manzanese il tricesimo viola San Vito e poi i pareggi tra Tolmezzo e Vesna Tolviscosa e Chions e buon'ultima la vittoria del Correnons sul campo della Virtus Corno qui chiedo a Enrico Salvian di osservare questi risultati Enrico e ce n'è qualcuno che secondo te merita particolare attenzione? torniamo sui risultati, grazie maestro a me ha colpito, anche se forse fa un po' meno notizia rispetto al passato il K.O. del Charlene Sbuzzane perché è una squadra che era stata data favorita dopo il mercato estivo e che invece non riesce a ingranare io l'ho vista due settimane fa con la San Vittese ha perso, a mio modo di vedere, meritatamente contro una San Vittese buona, che ha giocato bene tatticamente che ieri però ha perso in casa col tricesimo diciamo che il Charlene Sbuzzane mi ha impressionato più che altro perché è stato molto facile per la San Vittese segnare sia nel primo tempo ma poi soprattutto quando il Charlene Sbuzzane aveva pareggiato il gol del 2-1 arrivato da un giovane della Bianca era Edoardo della Bianca è arrivato subito quindi poi non c'è stata neanche la reazione e quindi questo 2-0 mi fa pensare che effettivamente ci siano problemi all'interno del Charlene Sbuzzane anche di continuità che tutti invece si aspettano è un'opinione abbastanza condivisibile anche attraverso tutti gli altri lavori Sì, infatti non scopro l'acquacale Guardiamo anche la classifica del campionato di eccellenza perché con Daniel Candotti vado a rilevare la posizione del Torvis Corsa che nonostante con il pareggio di ieri si conferma al secondo posto in classifica al pari del Col de Nons Daniel, volevate essere lì a questo punto della stagione oppure no? La squadra è costruita per far bene il nostro obiettivo è fare prima i 40 punti prima possibile e poi quello che verrà di più sarà molto positivo Quindi siete già ben oltre un terzo del cammino Sì, speriamo di continuare così Senti, ma voi siete usciti in Coppa Italia proprio per mano del Lumignacco Avete un rammarico? Perché state giocando bene Coppa Italia avreste potuto fare qualcosa di più forse? Ma è stata una bella partita da due squadre buone però i rigori sono una lotteria quindi chi segna passa chi perde, chi sbaglia esce Vi aspettavate il Lumignacco davanti a voi? Oppure c'è qualche squadra che secondo te può insidiare anche il primato del Lumignacco? Oltre a voi ovviamente Ma il Lumignacco comunque dall'altro anno che sta facendo un bel filotto positivo di partite ed è difficile batterla perché è una bella squadra quadrata, organizzata, molto forti però ho visto il Cordenons che secondo me è veramente una gran squadra Bene, io mi unisco a Daniel Candotti secondo me è proprio il Cordenons guardando anche nell'immediato futuro Cordenons, la squadra che può fare il salto di qualità e andare a insidiare Enrico, tu cosa ne pensi? Sulla carta sì è partita sicuramente per le zone alte ha avuto qualche difficoltà all'inizio in particolare perché subiva troppi gol anche a detta dello stesso allenatore Mauro Conte però anche vedendo le cifre si è molto stabilizzata dietro io l'ho vista contro il Chionso qualche settimana fa effettivamente ha vinto il derby con autorità rischiando pochissimo senza mai mettere in dubbio questa superiorità sul campo e poi insomma con i vari Shang, Akmetai davanti insomma hanno qualità sì, è solo Roma del Prezzo ne hanno davanti insomma hanno tanta roba per cui occhio, occhio al Cordenons riguardo a Torbiscosa Chionse di ieri Daniel, c'era tanto caldo fatto notato anche con i giocatori, no? sì, era una giornata abbastanza calda poi il primo tempo ho giocato ad altri livelli ad altri ritmi secondo me gli ultimi 20 minuti c'è stato un calo fisico però ci sta alla fine ho notato che Torbiscosa gioca comunque sempre con uno stile preciso cioè il mister insiste su questi concetti sì, quello sì palla bassa partendo da dietro e cerchiamo di tenerla sempre bassa non mai lanciare lungo a parte in certi casi disperati proprio perché se hai difficoltà la butti là però giochiamo sempre dal basso cerchiamo di fare un bel gioco e vediamo è proprio questo uno dei quesiti che abbiamo posto ai giocatori abbiamo ascoltato a fine partita Verrillo quindi l'autore del gol delle Chionse poi Capitan Godeas Capitano del Torbiscosa andiamo a sentirli poi torniamo in studio con l'autore del gol del Chionse Verrillo a cui chiedo subito di raccontarsi proprio l'azione del gol l'azione del gol è stata una un giravano palle dei difensori del Torbiscosa noi eravamo li aspettavamo al centro campo abbiamo vinto un contrasto con Corvaglia mi ha messo la palla oltre alla difesa mi sono trovato davanti a Buso e ho fatto gol una partita di grande sacrificio tu l'abbiamo visto hai svariato un po' tutto il campo hai dato una mano anche in difesa quindi insomma tanta generosità anche il gol è forse il giusto premio Simo il gol fa piacere che sia attaccante quindi si vive di quello e la squadra ha bisogno dei tuoi gol però bisogna anche di una situazione tattica di trovare l'equilibrio oggi avevamo bisogno siccome il Torbiscosa lo conosciamo la sua forza era il possesso palla il centro campo bisogna dare una mano e bisogna farlo anche con gli attaccanti e l'ho fatto io a questo punto Chions che si conferma prende punti anche a Torbiscosa un po' alla volta insomma ha cominciato ad ingranare e per arrivare dove? allora sì sì stiamo cominciando ad ingranare la squadra è nuova per 7, 8, 11esimi quindi è chiaro che anche con tanti di fortuni in un ultimo il mio che insomma sono tornato due domeniche è chiaro che non è facile trovare gli automatismi ecco spontanei eccetera però la squadra è stata fatta per arrivare a una salvezza anticipata e tranquilla dopodiché dentro ogni spogliatoio si conosce il proprio valore noi sappiamo che possiamo avere qualcosa in più di una salvezza anticipata però dobbiamo dimostrarlo sul campo adesso non siamo ancora completamente la squadra che pensiamo di poter essere con Capitano Godias per commentare questo pareggio per 1-1 del Tor Viscosa 1-1 in rimonta Capitano era difficile tante assenze da parte vostra però non avete mollato e alla fine come la valuti? ma valuti che comunque le assenze non hanno hanno pesato fino a un certo punto abbiamo una squadra con una rosa abbastanza lunga e quindi chi era in campo sicuro ha sostituito degnamente chi mancava per quanto riguarda la partita è stata secondo me una partita equilibrata ha giocato un orario un po' strano questa era ha fatto sì che insomma al primo tempo si giochi abbastanza a ritmi abbastanza elevati secondo me no per mancanza un po' di forze o non lo so abbiamo pareggiato in rimonta abbiamo preso gol su una disattenzione mia fra l'altro forse l'unica o una delle poche occasioni che hanno avuto loro il primo tempo non che noi non abbiamo avuto più di tante però insomma era abbastanza equilibrata con un ritmo abbastanza alto secondo me una partita piaceva il primo tempo secondo il tempo l'abbiamo pareggiata e poi sono calati un po' i ritmi è andata così una cosa che ho notato è che non avete mai rinunciato a giocare da Torviscosa con il vostro stile palla a terra cambi di lato e tutto sì questo è lo stile che ci inculcano i mister diciamo che per adesso sta pagando stiamo facendo bene un inizio di campionato abbastanza positivo e quindi credo che valga la pena continuare così specialmente finché i campi ce lo permettano poi vedremo insomma come andrà la stagione per adesso sta andando abbastanza bene anche oggi siamo riusciti a non perdere nonostante che sia messa male la partita quindi insomma siamo abbastanza contenti però io vedo la classifica e siete sempre lì secondo posto detto Luminaco non è che io spero di rimanerci secondo posto magari di arrivare anche al primo posto davanti c'è Luminaco che corre noi adesso abbiamo avuto un mese un po' difficile abbiamo avuto il cordonso in casa abbiamo avuto la partita di Coppa comunque partita vera contro proprio Luminaco al mercoledì l'abbiamo pagato un po' domenica scorsa a Itala quindi è stato un mese un po' difficoltoso ne siamo usciti secondo me abbastanza forti e rafforzati da questi risultati positivi non l'abbiamo mai perso alla fine fine quindi dobbiamo crederci dobbiamo crederci dobbiamo credere che il Torbiscosa Calcio può rimanere fra quelle squadre là che se la possono giocare fino alla fine secondo me Capitano in bocca al lupo e contiamo di rivedervi poi detto del campionato di eccellenza che vede il Luminaco davanti a tutti con il Torbiscosa con le nonse all'inseguimento della capolista di mister Cortiula scendiamo un po' di categoria e andiamo a guardare quello che succede in promozione promozione girone A qui ospita in studio uno dei massimi esperti del girone quindi Enrico se le stai vedendo tutte sì anche se i massimi esperti un po' esagerato insomma siamo diciamo che però anche per nella bassa portenonese dove abito io ci sono molte squadre sono tutte lì alla fine quindi e te la hai una spiegazione sul perché effettivamente il girone A di promozione si è formato quasi per metà da formazioni che in realtà da società che sono distanti 5 km l'una dall'altra sì beh allora credo che sia un po' anche il periodo diciamo l'epoca alcuni anni in cui si incrociano formazioni di buona tradizione come lo stesso Chions che sono molti anni che veleggia tra promozione eccellenza poi la Spalcordovado stessa formazioni ambiziose come possono essere anche il Prata e il Pravisdomini stesso il Pravisdomini è una squadra che si trova in questi anni in questi lì di così alti altrimenti ha veleggiato sempre in categorie più basse e poi ci sono squadre magari che lavorano bene come con il settore giovanile come può essere anche il Sesto Bagnarola lo stesso Casarsa che è comunque una squadra di tradizioni e poi il Torre adesso magari mi sfugge anche l'Union Pasiano comunque è una squadra ambiziosa e quindi diciamo che si ritrovano tra tradizione e tra ambizione nella Bassa Pordenonese è per te una pacchia perché puoi andare in bicicletta a vedere tutte le partite diciamo che è bello averle tutte qui vicino anche perché ci sono molte partite anche sentite o magari dove ci sono può essere anche se non il pubblico comunque squadre che puntano gli stessi obiettivi a pochi chilometri più distanti guardiamo anche i risultati della promozione Girone A così diamo anche una fotografia precisa la vittoria dell'Aurora sul sesto Bagnarola poi il pareggio tra Fiume Vento Bagnia e il Prata il pareggio tra Casasse e Union Pasiano la vittoria del Pocia a Precenicco sul campo del Briand la vittoria esterna della Fulgor sul Fumignano che abbiamo ripreso anche attraverso le telecamere di Udinese TV e verrà poi ve lo offriremo nel palinsesto della settimana il pareggio tra Paris Domini e Profagagna il pareggio tra Spal e Bagnia e il pareggio tra Torre e Lignano la Fulgor ha vinto a Fumignano e allora non c'è solo Enrico Savian che può andare in bicicletta a vedere le sue partite ma anche io a Fulminano sono andato in bicicletta per capitoli vicino e al termine della partita tra Fulgor e il padrone di casa del mister Martinelli abbiamo intervistato il portiere del Fulminano Perusini migliore in campo 4 gol della Fulgor ma Perusini ne ha evitati almeno altri 3 sentiamo Perusini almeno 3 interventi nel primo tempo e uno importante nella ripresa di Perusini non sono bastati al Fulminano per evitare la sconfitta però nel primo tempo hai fatto 3 parate veramente da campione Sì, grazie però alla fine non sono servite Ascolta c'era anche un fallo un po' da rigore forse come l'hai vista lì tu? Su De Michelis Sì, è arrivata la palla in area lui ha stava raggiungendo la palla ma io gli sono saltato sopra però comunque con le dita l'ho sfiorato e si è visto il cambio di direzione della palla quindi non penso ci sia stato rigore cioè era stato giusto così calcio d'angolo e basta Quindi tu confermi che la palla l'hai toccata perché io in Conaca non l'ho vista No, no l'ho toccata Raccontaci un po' la tua vita da portiere come sei arrivato qua a Fulminano e quali sono i tuoi obiettivi Io ho iniziato a giocare a Sedelliano quando ero piccolo e non so come sono finito in porta e e da lì mi è sempre piaciuto di più dopo da Sedelliano sono passato a Virtus Corno sono andato alla Manzanese e adesso sono in prestito qua al Fulminiano Obiettivi per quest'anno ma comunque anche per la tua carriera? C'è giovanissimo ancora? Quest'anno spero di salvare sì che ci salviamo ma sarà complicato difficile ma comunque quello è l'obiettivo per la mia carriera il meglio non so il meglio possibile non ho obiettivi Un idolo un punto di riferimento? Mi piaceva tanto Andanovic quando giocava nell'Udinese adesso è sempre fortissimo e Casillas del del Porto adesso Perusini in bocca al lupo Crepi grazie Tenente d'occhio Perusini perché è un giovanissimo portiere di cui sentiremo parlare come sentiremo parlare anche di tantissimi talenti che stiamo seguendo attraverso Udinese TV a proposito di talenti chiedo a Daniel Candotti la tua carriera in calcistica Daniel dove hai cominciato come sei arrivato a Torviscosa? No sono partito dai giovanissimi dell'Ancona Donatello ho fatto due anni lì poi sono andato a Trieste a Triestina ho fatto allievi nazionali a Primavera dopo sono passato a Tamà in Serie D un anno a Fagagna in eccellenza tornato in Serie D all'Itala e poi Torviscosa in eccellenza ad ogni promozione sono tornati su quest'anno in eccellenza quindi tu hai comunque esperienza anche a livello più alto dell'eccellenza la Serie D hai calcato il campo sì sì ho giocato per due anni quindi il livello dell'eccellenza di quest'anno come ti pare livello tecnico intendo ci sono tanti grandi giocatori sì è un bel campionato con bei giocatori sì abbastanza ce n'è uno in particolare con cui magari ti sei trovato a giocare uno contro uno in campo che è fortissimo vorresti averlo beh mi ricordo già dai vecchi tempi Roma del Prep è uno che mi ha messo veramente in difficoltà molto forte che adesso gioca a Cordenosa allora lui e anche due attaccanti del Chions comunque Verrillo e Corvaglia sono tanta roba e beh insomma Verrillo è sicuramente un gran accorso tantissimo è un giocatore molto generoso che riesce ad abbinare generosità atletismo corsa ma anche piedi buoni quindi di giocatori così trovi scorsa quest'anno Daniel mi diceva che il mister ma anche in società si punta a consolidare la struttura la squadra per poi magari provare a fare qualcosa di più magari già quest'anno ma certamente l'obiettivo anche negli anni prossimi state condividendo in spogliatoio questo tipo di divisione sì questo sì c'è un progetto importante a Torviscosa e di tre anni vorrebbero comunque fare quest'anno un bel campionato poi il prossimo anno si vedrà da farsi insomma comunque gli obiettivi buoni ci sono e seguiremo ovviamente con un occhio di grande attenzione il Torviscosa andiamo a vedere i risultati della promozione Girone B Girone una giornata caratterizzata da tantissime vittorie esterne lo rilevavamo già ieri sera nell'abito di Sport Life della domenica vedete la vittoria esterna del Valentisone sul campo del primo Rezze della Juventina a Ronchi del San Giovanni contro San Luigi nel derby del Costa Lunga sulla San Giorgina del Gonarse a Sevegliano del Trieste Calcio a Sistiana poi due pareggi tra oltre Pro Cervignano e Zaule contro Sant'Andrea San Vito promozione Girone B Enrico hai modo di seguire un po' anche la Girone B è poco di riflesso guardando le classifiche però partite di squadre del Girone B non ne ho viste anche perché sono della redazione di Pordenone quindi siamo orientati su tutto Pordenone nei commenti nei commenti delle società Enrico qualcuno ti dice siamo più forti meno forti fanno dei raffronti tra le promozioni A e le promozioni B il livello forse a livello di promozione magari un po' meno capita di più nelle categorie inferiori che il Girone Pordenonese venga esaltato come più competitivo un po' da tutti credo si sia anche visto un po' anche l'anno scorso in occasione della Coppa Regione quando le formazioni pordenonesi comunque figurano solitamente per quanto riguarda la promozione credo sia più equilibrato invece il il confronto per cui non credo ci sia una disparità così netta magari può anche starci però in linea generale non è così marcata risaliamo di nuovo di categoria torniamo sull'eccellenza andiamo a vedere la classifica del campionato di eccellenza perché voglio domandare a Daniel Candotti se posto che il Charlie Smuzzane sta deludendo un po' tutti c'è una formazione che ti sta stupendo in positivo e una in negativo guardando la classifica ma la Gemonese in positivo perché comunque sta facendo un bel campionato e secondo me in negativo invece il Tolmezzo Tolmezzo ti aspettavi un Tolmezzo più in alto sì che comunque ha Gregoruti che è fortissimo è una squadra che comunque arriva sempre bene in classifica si salva sempre tranquillamente vedere un po' di difficoltà adesso mi fa un po' strano focalizzandoci su Tolviscosa invece come ti trovi nell'ambiente lì tifosi società come vi trovate molto bene c'è qualche aneddoto che ci puoi raccontare magari anche del mezzogiorno di fuoco oppure no ma niente di particolare sinceramente col mister come va bene bene un bel rapporto con tutta la squadra un grande allenatore come state come avete ovviato perché eravate senza tutti gli attaccanti sostanzialmente ieri ha giocato Michelin davanti poi come vi siete trovati avete ma comunque Michelin è comunque un gran giocatore tecnicamente fortissimo e quindi ci conosciamo già da anni non è stato un problema più di tanto trovare le soluzioni per la mancanza di groppe sturm speravo che segnasse ma farà bene qualche gol prima o poi per quanto riguarda invece perché ho visto che avevate la difesa molto alta quindi spesso e volentieri gli attaccanti del Chione sono andati in fuori gioco era proprio una scelta ben precisa quello che si chiede l'allenatore soprattutto di stare alti di tenere la squadra corta e quindi finché va bene così non prendiamo tanti gol perfetto scendiamo invece alla classifica se possiamo della promozione girone A perché la stessa domanda che ho fatto prima a Daniel vorrei farla anche a Enrico Savian cioè c'è una squadra che ti ha stupito in positivo e una in negativo nella promozione girone A beh in positivo vedendo la classifica credo in particolare da questa domenica il Porcia il Porcia era partito male ha cambiato molto aveva perso le prime due partite e sembrava un po' diverso da quello degli ultimi anni l'anno scorso era arrivato i playoff invece devo dire che un po' come tutti gli addetti ai lavori sostengono Tita da Pieve tira sempre fuori il coniglio dal cilindro praticamente almeno per il momento si è portato in zona playoff ha vinto ieri contro il Brienne acquendo questa difficoltà del Brienne e pian piano sta veramente mettendo le basi per costruire un altro Porcia da ricordare in chiusura di questa parte dedicata al calcio diamo un'occhiata al prossimo turno Daniel dove andate a giocare e che prospettive avete? noi giochiamo in casa con il Tolmezzo mi sembra il Tolmezzo che ti ha appena ascoltato adesso andranno tutto quello che hanno e ovviamente continuare a far bene evitare di perdere perché finché continui a fare risultati utili positivi va bene ci sono anche una serie di partite molto interessanti nel prossimo turno di eccellenza se possiamo rivederle anche saremo noi con le telecamere di Udinese TV a tricesimo per tricesimo contro Cian Lins e Muzzane mentre Enrico di queste partite quale volresti vedere? Otti stuzzica? Ebbè credo sia palese un po' a tutti Cordenons e Lumignacco è quello scontro al vertice che tutti credo aspettino un po' per testare tutte e due le squadre il Lumignacco che finora ha pareggiato solo una volta e sempre vinto e il Cordenons che era la più accreditata o tra le più accreditate e che visto il Crass e il Charlene Muzzane rimasti indietro è quella che dovrebbe essere chiamata a inseguire almeno il Lumignacco quindi l'esito di questo incontro sarà molto importante o c'è una fuga oppure c'è un rafforzamento del Cordenons chiarissimo il concetto io vi ricordo anche che in collaborazione con il Messaggero Veneto possiamo già darvi in anteprima i giocatori che concordano alla classifica del giocatore del mese per questa settimana i nominati andiamo di nomination sono Enrico Bon il portiere della Juventina che nel mese di ottobre è rimasto imbattuto non ha preso mai gol poi c'è Simone Sain il centrocampista del Lumignacco e Alessio Thion della Risanese quindi Enrico Bon per la promozione Simone Sain per l'eccellenza e Alessio Thion per la prima categoria sono i tre giocatori che sul sito del Messaggero Veneto si possono votare da domani e fino a venerdì concorreranno poi alla classifica del giocatore del mese tra i giocatori sicuramente di grande impatto prima di salutarvi prima di chiudere ho il tempo di salutare di fare un grosso in bocca al lupo e un ringraziamento a Daniel Candotti del Tor Viscosa grazie Daniel mi raccomando a Tor Mezzo ti hanno ascoltato a Tor Mezzo amici siamo qui in amicizia parliamo chiacchieramo come se fossimo al bar e quindi vedremo poi però cosa succederà in campo ringrazio Enrico Savian ti leggiamo sempre sul Messaggero Veneto grazie a voi buon lavoro grazie grazie per la disponibilità prima di passare alla linea al basket c'è un servizio di Franco Terenzani sulla presentazione ufficiale dei Warriors di L'Aipacco che animano la vita calcistica e non solo alle porte di Udine servizio di Terenzani poi pubblicità e linea a Max Fontanini è una giornata di festa quella che si sta svolgendo all'Aipacco in questa giornata del primo di novembre una giornata di sole per presentare tutta l'attività di questa zona di Udine ecco tra il campo di calcio tra i Warriors c'è l'attività della palestra con la situazione dell'Aipacco ecco tanto movimento per gli altri soprattutto non è così? sì abbiamo tanto movimento per gli altri abbiamo approfittato di inaugurare il settore giovanile calcistico quest'anno e per far vedere ciò abbiamo fatto una presentazione di tutta la struttura sportiva che comprende sia la parte calcistica che la parte della palestra quindi del basket e all'interno della palestra ci sono anche il tennis tavolo e la pallavolo quindi una polisportiva anche se non è sulla carta ma proprio sulla struttura di tutto quello che succede dall'interno di l'Aipacco questo per far vedere anche che l'Aipacco è una zona che non era tanto servita da questo punto di vista però noi abbiamo delle tante idee abbiamo tanti progetti e cerchiamo anche di sviluppare questi progetti pensando anche in aiuto da parte delle strutture comunali o regionali insomma o chi ci può dare una mano Lucio Cocco rappresenta la palacanestro ma anche altri delle società anche qui gravitano appunto nella palestra come si è potuto creare questo questo polo sportivo forse ti ricordi perché hai giocato anche tu nel 1977 all'aperto qui all'Aipacco dove facevamo i famosi tornevi nel sagrato della chiesa siamo partiti da lì da un'idea da una passione e da 40 anni stiamo portando avanti questa idea questa passione abbiamo ottenuto la concessione della palestra abbiamo fatto degli investimenti anche a livello energetico posizionando degli impianti fotovoltaici sul tetto sempre in concessione dal comune di Udine quanta gente all'anno gravita appunto in questa zona? direi che nel 2014 all'interno del complesso sportivo di Via Lai Pacco siano transitate almeno 40 dico 40 mila persone di atleti solo di atleti all'alformati 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 alle Grazie a tutti.